Benvenuti in un nuovo tutorial, oggi un po' particolare. Vi faccio vedere come in pochi minuti si può imparare a fare i giocoglieri memorizzando pochi passaggi. Iniziamo. Prima di tutto il movimento. La maniera sbagliata è quella di passarsi le sfere di mano in mano. Il movimento corretto, al contrario, è di incrociare in questo modo. Ora con tre oggetti. Chiaramente ci vorrà un po' ad assimilare la coordinazione. Ma l'importante è capire il senso di rotazione. Questo è sbagliato. Questo è corretto. Ora ve lo faccio vedere lentamente. Due oggetti nelle mani e uno sempre in aria. In pochi minuti riuscirete a far girare i tre oggetti con facilità. E magari stupire gli amici con la vostra abilità. Spero vi sia piaciuto questo semplice tutorial. Un like e iscrivetevi al canale. e alla prossima! Ciao!